Non parlerò più del processo, il processo per fortuna è finito. Dopo questa conferenza stampa non voglio più parlare degli atti processuali. Ho letto che sia nelle sentenze che in vari articoli, anche vostri, su qualcosa di assolutamente non veritiero e folle riguardo il mio rapporto con Amanda. Il mio rapporto con Amanda, la ricadisco adesso per l'ultima volta, era una semplice storia d'affetto tra due giovani ragazzi, poco più che adolescenti, che nulla potevano sapere di una storia assurda ed infinita come questa. Auguro ad Amanda ogni bene, forse un giorno o l'altro si troverò un libro, forse no. Ora voglio soltanto tornare a vivere e dimenticare tutto quello che di brutto mi è capitato. La ferita, questa ferita che mi ha accompagnata per sette anni e cinque mesi, sette anni e cinque mesi di tempo infinito, non si rimarginerà mai, purtroppo. Perché si è scavata in maniera troppo profonda, nel mio cuore e nel mio animo. Perché si è scavata in maniera troppo profonda, nel mio cuore e nel mio cuore e nel mio cuore.